E la sigla ci porta a Gilanda in TV, lo spazio sul terzo settore, quello del sociale e del non profit che muove migliaia di enti ed associazioni di una economia valutata, oltre 2 miliardi di euro. E Gilanda accende i riflettori questa settimana su due problemi che oggi assillano il settore del non profit che nell'ultimo censimento contava 221 mila organismi che però in questi dieci anni potrebbero essersi decuplicati. Il primo problema è l'IMU sugli immobili degli enti non profit, il secondo la carenza di volontari specialmente in Campania. Il problema IMU è legato alla recente sentenza del Consiglio di Stato, una vera picconata al non profit, anche se il governo Munti deve ancora decidere se distinguere dal non profit puro e quello misto, cioè quello che svolge anche attività commerciali. E qui il discorso si farebbe complicato se ci chiedessimo perché al non profit non venga assegnato un ruolo di attività economica e non quello invece residuale di attività non lucrativa che poi finisce con il penalizzarlo. L'altro problema è insorto negli ultimi tempi, quello della carenza di volontari, specialmente in Campania, dove si stima vi siano 13 mila organismi non profit. La carenza di volontari non è solo un problema culturale ma anche finanziario che esige una maggiore attenzione del non profit verso il fundraising, cioè la ricerca di finanziamenti per garantire la gestione degli enti ed il sostegno ai progetti di grande valenza sociale.